Costruita a Spartanburg negli Stati Uniti, il nuovo SAV, ovvero Sport Activity Vehicle di casa BMW, introduce un nuovo standard di lusso, spaziosità e agilità di guida. Impressionanti le dimensioni, superano infatti i 5 metri, che si percepiscono tutti nella spaziosità interna, ma che vengono ammorbiditi esternamente da proporzioni armoniose ed un linguaggio stilistico tutto nuovo, dominato da linee precise e superfici tese. Il frontale, con l'iconica griglia a doppio rene, ancor più grande, e la firma luminosa con tecnologia Laser Light, che copre una portata bagliante fino a 600 metri, le donano un'innegabile possenza e classe. Elementi caratterizzanti anche i generosi spazi interni, che permettono di beneficiare del clima automatico a 5 zone, tetto panoramico, luci ambientali e impianto Bowers & Wilkins. Tutto questo lusso è spinto dalla gamma di propulsori che comprendono un motore a benzina a sei cilindri con una potenza di 340 CV e due motori diesel, sempre a sei cilindri da 265 o 400 CV di potenza. Tutti i propulsori sono abbinati al cambio automatico Steptronic ad 8 marce e all'attrazione integrale intelligente BMW X-Drive, che le rende agevole per correre ogni tipo di terreno.